Ciao, sono Melissa, vivo a Gorle, una famiglia di quattro persone e sono una lavoratrice. Consiglio le lavanderie LavaPiù per gli ambienti, la pulizia, l'utilizzo dei macchinari Miele, che come sono dei buonissimi macchinari, poi io li utilizzo anche a casa, e poi perché mi sono sempre trovata bene, ho lavato di tutto. Quando hanno aperto questa Gorle, sono venuta a controllare, l'ho trovata molto utilita, coordinata. Consiglierei LavaPiù a mio amico, sicuramente perché mi sono sempre trovata bene e a tutti quelli che ho consigliato di venire in LavaPiù ci sono trovati altrettanto bene. Utilizzo i servizi di LavaPiù, prima di tutto perché ho due figli universitari fuori sede, mi scaricano a fine settimana una quantità industriale di panni e quindi ho bisogno di lavare, asciugare in breve tempo. Il capo più inconsueto che ho lavato il LavaPiù sono stati un paio di guanti in pelle e sono usciti benissimo, non si sono ristretti, perfetti. L'aspetto che apprezzati più di questa lavanderia? Prima cosa il parteggio, che ti permette di arrivare con tutti i tuoi borsoni, non fare tanto tragitto, l'ordine, la pulizia, la simpatia e la gentilezza del gestore, sicuramente. Che è sempre presente con i suoi consigli, e lo puoi chiamare a tutte le ore mandandogli messaggi con i problemi che avvengono in lavanderia e risponde sempre. Sono soddisfatta della qualità del lavaggio al 100%. Grazie a tutti.